Ancora su Parc Fermet, Matteo Baci che era l'unico opinionista che ancora non aveva parlato mi sembra che anche nei rally la situazione circa le carriere dei piloti sia più o meno simile almeno in Italia e adesso si sta estendendo anche al resto dell'Europa a causa di questa crisi Sì, è una cosa abbastanza diffusa perché comunque quanto meno fino all'anno scorso anche nel campionato del mondo rally avevamo un pilota, un campione del mondo l'ultimo campione del mondo prima dell'epopea di Sebastian Leib ovvero Peter Solberg che era stato costretto a farsi un team privato per correre nel campionato del mondo fortunatamente quest'anno ha trovato un sedile in Ford e quindi la situazione è leggermente migliorata poi l'anno prossimo dovrebbe entrare, no dovrebbe, entrerà la Volkswagen quindi aumentano i sedili disponibili e la situazione potrebbe migliorare però il fatto è che non c'è come dicevamo un management non c'è un... più che altro manca una sorta... cioè non c'è meritocrazia uno è bravo, si mette in mostra, vince ma non è detto che trovi poi un sedile per la stagione successiva questo capita anche in Formula 1, vediamo lo schieramento di quest'anno ci sono circa 10-12 piloti che si meritano il sediolo di Formula 1 ce ne sono altri paganti, è sempre stato così, quelli della seconda parte dello schieramento molti dei quali a parer mio non hanno delle qualità tali da poter giustificare la loro presenza in un campionato che dovrebbe essere quello al top capita forse anche nella MotoGP che c'è qualche pilota provvisorio mettiamo qualche pilota forte, Marco Masetti come Mattia Pasini è costretto a partire con una categoria nuova, interessantissima ma che non è comunque la MotoGP sì, la MotoGP si è inventata un mondo nuovo si è inventato questo CRT che è una creatura che io tuttora definisco un incrocio tra carne, pesce, uovo e verdura perché non ha una sua vera identità l'idea di fondo è abbastanza geniale ovvero sia usiamo un motore derivato dalla serie possibilmente preparato lo mettiamo su una ciclistica da corsa vera ovvero sia che senta le regolazioni fatte in maniera professionale e riempiamo la griglia perché il grosso problema della Dorna quest'anno era riempire la griglia non ci giriamo attorno, ci sarebbero ritrovati con 12 moto vere e una gara con 12 moto è di una tristezza irraccontabile giustamente hanno fatto questo a questo punto è venuta fuori l'unica proposta interessante nei breve periodo che è quella della priglia che si chiama RT Priglia Racing Technology in realtà è una priglia molto vicina all'RSV4 Superbike ed è la moto che guida Mattia è una bella proposta perché è una moto da corsa la Suter ha fatto qualcosa di simile usando un motore BMW ma nei test di Sepanga ha preso dei distacchi imbarazzanti perché prendere 5-6 secondi al giro vuol dire andare veramente piano invece la RT o Aprilia che dir si voglia con Mattia secondo me ha fatto vedere un potenziale con Mattia anche con chiaramente con Randy De Pugnay e anche con Alex Spargaro fatto vedere delle cose interessanti com'è sta moto Mattia? guarda io innanzitutto non penso che sia così te sei stato molto cattivo lo sono fin da bambino non so se saranno competitivi se saremo competitivi con le MotoGP non credo per l'inizio non so per la fine secondo me dopo due anni di Moto2 dove veramente erano moto molto più moto stradali che moto da corsa per me è stato comunque rimontare su una moto da corsa vera dopo due anni e la moto per quel poco che siamo riusciti a vedere a Valencia perché comunque era molto freddo e è difficile girare con le gomme di adesso col freddo eravamo poche moto la pista fa fatica a gommarsi per quel poco che abbiamo visto io sono molto contento secondo me ha un potenziale infinito in più c'è una casa dietro spalle robuste che ha in particolare con me io con loro ho fatto le corse vere le ho sempre fatte sono sempre andato bene conosco bene tutti i ragazzi che lavorano hanno fatto una grande esperienza nella superbike vincendo un mondiale con viaggi e comunque cavandosi delle belle soddisfazioni e hanno messo in piedi questo progetto GRT che secondo me ha un potenziale elevatissimo bisognerà capire benissimo quale saranno i nostri il nostro livello quale sarà quando saremo tutti insieme insieme alle moto GP vere quando le condizioni saranno tutte queste nei test IRTA nei test IRTA e comunque le prime gare perché le moto sono da mettere a posto sono da sviluppare non è che dici arrivi il prima gara prendi tre secondi e dici oddio adesso sono disperato magari la gara dopo ne prendi due tu però hai guidato anche una moto GP vera tu hai fatto un test abbastanza articolato con la Ducati 800 va bene però moto GP vera lo scalino è così alto oppure è difficilissimo da dire primo perché sono passati due anni e in mezzo ci sono stati due anni di moto 2 molto difficili tra l'altro e per motivi che non sto a dire mi piace guardare avanti e quindi il paragone è difficile dopo due anni paragonare a una moto io quello che ho trovato sull'Apriglia è una moto da corsa un ottimo feeling una posizione di guida vera dove il pilota può essere in condizione di fare secondo me di metterci il suo sopra quindi un motore esagerato tantissima coppia un motore che va veramente forte adesso bisognerà vedere perché comunque la moto GP negli ultimi tre anni la Honda ha cambiato abbastanza le regole del gioco e la Ducati si è dovuta adeguare sta crescendo hanno fatto i test secondo me in Malesi hanno fatto un ottimo inizio confronto a quello che era stato l'anno scorso quindi adesso vedremo durante l'anno com'è di sicuro una moto da corsa la nostra Alessandro Balzani invece la tua Porsche è in arrivo in Italia perché causa neve da Weissach da Zuffenhausen dal reparto corse della Porsche non sono riusciti a spedirla tu quando inizierai a fare i primissimi test con la vettura ricordiamo quest'anno farai l'italiano Gran Turismo con la GT3R che è iscritta nella categoria GT3 che è un po' la macchina di riferimento e troverà di fronte a sé questa macchina un plotone di 458 Ferrari beh non solo che sa e non solo perché la 458 è l'arma sicuramente ovviamente essendo in Italia la più la più ma anche all'estero perché farà il Mondiale Endurance insomma nella categoria GT quindi sarà una bella sfida anche per un pilota come te che lavora alla scuola Ferrari clienti ci sarà spero non troppo difficile da gestire questa posizione il GT italiano prima l'abbiamo forse sminuito no non l'abbiamo sminuito abbiamo semplicemente detto che Alessandro Balzan forse meriterebbe anche di correre mettiamo la 24 ore di Le Mans beh sì comunque già facendo un campionato come il GT italiano ti avvicini anche come concetto di gare perché quello che ho fatto io fino ad oggi erano sempre gare molto corte di mezz'ora quindi adesso il GT italiano comincia a avere già il cambio pilota comunque saremmo due a correre questa è una nuova esperienza poi in Italia si da temere sicuramente c'è la Ferrari c'è l'arrivo del team ufficiale BMW con le Z4 sono macchine interessanti molto belle e poi il team campione in carica di Audi anche loro che sono presenti con una struttura ufficiale diciamo un po' che noi stiamo subendo ultimamente in un tubilismo quello che forse in MotoGP si vede un po' da più di tempo ovvero l'abuso dell'elettronica la mia vettura che poi è la prima volta che guiderò ha l'ABS anche il traction control quindi anche per me comunque dovrò adattare molto io che ho sempre avuto macchine nude e crude sì ma soprattutto nel punto di frenata il mio punto forte con l'ABS sai i valori si livelleranno molto quindi questo ovviamente l'ha fatto per i gentlemen per lo spettacolo per tutte quelle cose che poi forse non ti rode troppo che il campionato inizi il 6 maggio perché è molto avanti è avanti però visto un po' anche la situazione economica sai ci dà più tempo per preparare ormai il pilota deve più che andare in paese prepararsi fisicamente deve veramente andare a cercare sponsor tu vai in India ad insegnare agli indiani a guidare con la scuola della Ferrari Matteo Bacci campionato italiano Gran Turismo parte il 6 maggio campionato italiano Rally ancora ha delle date provvisorie perché va sciolto il nodo ci sono un paio di nodi da sciogliere il primo è quello relativo al Rally d'Italia che fino all'anno scorso sarebbe la gara del campionato mondiale Rally che si disputa in Italia fino all'anno scorso era in Sardegna era in Sardegna poi c'è stata la proposta della Sicilia la proposta della Sicilia in un primo momento appoggiata da una parte della federazione e da un'altra no ci sono state le elezioni dell'automobile club quindi diciamo è ancora tutto in stand by e verrà deciso speriamo abbastanza presto anche perché comunque la gara è a ottobre a differenza degli altri anni che era a maggio quindi al momento non si sa quando è la prima gara del campionato italiano no la prima gara del campionato italiano sarà il Rally del Ciocco che è in programma a metà marzo e questo diciamo lo diamo per assodato quello che non si sa è quali saranno le otto sì ovviamente non si sa quali saranno le otto gare che faranno parte perché c'è un dubbio legato anche al Rally di San Marino e al Rally di San Crispino che insomma non si sa ancora se verranno fatte San Marino ha la validità ha la validità dell'Intercontinental però potrebbe prendere anche la validità dell'italiano ce l'ha sempre avuta tranne l'anno scorso che è rimasto fuori per la rotazione e quindi aveva validità solamente per il trofeo Rally Terra e per l'Europeo e per la Coppa Europa la gara dell'Europeo è il 1000 e vinse Michelsen e vinse Michelsen che poi ha vinto anche il campionato e quindi diciamo è un po' tutto c'è questa bozza di calendario però le date definitive e le gare che ne faranno parte ancora non sono certe mentre stiamo vedendo delle immagini del campionato mondiale si è concluso il rally di Svezia grandissima seconda vittoria di Latvala e Sebastian Leub seconda vittoria di Latvala in Svezia sì Leub ha sbagliato quindi ha dimostrato che è umano anche lui qualcuno ha detto per fortuna sicuramente il campionato ne ha giovato comunque è sempre in testa dopo due gare dopo la vittoria a Monte Carlo dove ha vinto anche la Power Stage che ricordiamo è l'ultima prova speciale trasmessa in diretta televisiva che porta tre punti aggiuntivi l'ha vinta anche in Svezia quindi è tornato a casa con 11 punti che comunque non fanno male e è in testa con 39 punti davanti al compagno di squadra Irvonen quindi anche quest'anno Citroen è sicuramente la squadra da battere nel campionato del mondo ma tra una settimana Fabio o due settimane perché io faccio sempre una grande confusione con le date parte il campionato mondiale Superbike 26 febbraio ecco tu sei in partenza per l'Australia nei test australiani è accaduto di tutti ne parleremo subito dopo la pausa pubblicitaria a tra poco con la pausa pubblicitaria con la pausa pubblicitaria con la pausa pubblicitaria